La provincia dell'Aquila dà via libera con apposita determina allo svolgimento delle indagini strutturali sul ponte della strada provinciale 51 direzione Zappannotte. L'infrastruttura che si trova sul territorio comunale di Sulmona versa in condizioni di degrado, tramanto stradale rovinato, buche, perdile d'acqua, parapetti lesionati e pericolanti. Una situazione più volte segnalata dai residenti della zona, dai conducenti dei mezzi pesanti che transitano con evidenti difficoltà, per questo la provincia ha deciso di svolgere le indagini. Tutto fermo invece sul ponte Capocrassi di Sulmona. La situazione purtroppo si è bloccata a livello delle indagini sul manufatto che richiedono più fondi di quelli già stanziati. Stiamo valutando come poter sbloccare il tutto, poi una volta ottenuti i risultati di affidare a uno studio di ingegneria la verifica di vulnerabilità sismica, spiega l'assessore comunale lavori pubblici Leniarico, ricordando che il monitoraggio dei ponti è stato inserito nel piano triennale 2024-2026.